Circa 1.200 omessi versamenti del bollo auto per una evasione totale di oltre 250.000 euro. E' quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Bari nell'ambito di un'indagine chiamata GOST sulla esenzione del pagamento del bollo auto per i cittadini con handicap. L'inchiesta ha accertato centinaia di omessi versamenti della tassa automobilistica nell'arco di diversi anni. In particolare è emerso che per oltre 300 automezzi esentati dal pagamento del bollo auto in quanto di proprietà o in uso a portatori di handicap, alla morte dell'avente diritto gli eredi non ottemperavano al versamento della tassa prevista e dovuta. Dei 300 automezzi di cui i disabili erano proprietari o utilizzatori, per 190 sono stati individuati 666 eredi proprietari coinvolti singolarmente o in solido con altri che sono stati segnalati alla regione Puglia e all'ACI provinciale di Bari al fine di avviare le procedure per il recupero delle somme dovute. Esaminate le singole posizioni, per sette di loro è anche scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per truffa.